Ciao a tutti, il giorno 20 maggio, in occasione di Monti Sorgenti, in collaborazione con il CAI Lecco, vi aspettiamo per una pedalata non competitiva in compagnia. Ci troveremo alle ore 10 presso il piazzale della Funivia di Bobbio e partiremo in direzione Rifugio Lecco, al quale ci aspetterà un ricco aperitivo. Inoltre sarà possibile, presso la pratenza della Funivia, il noleggio delle biciclette. Vi aspettiamo numerosi!